Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, buon anno nuovo. Ciao a tutti e bentornati su MTV. Come ogni anno è arrivato questo momento, l'inizio dell'anno nuovo e quindi il momento di ricapitolare e riassumere un po' insieme tutto quello che è successo nel 2017. Non ci credo che quest'anno è finito, sono successe così tante cose importanti, ci sono stati tantissimi cambiamenti nella mia vita ed è veramente passato prima che potessi rendermene conto. Quindi sono un po' scioccata, però in realtà sono anche carica per questo 2018, spero che lo siate anche voi. E quindi cominciamo letteralmente dall'inizio. A gennaio diciamo che semplicemente si è un po' avviato l'anno, piano piano tutto ha preso il via, è ricominciata la scuola dopo le vacanze, l'ultimo venta mesta del mio quinto anno di liceo. Per il compleanno della mia migliore amica Alice vi ho regalato una giornata da passare alle terme insieme. Siamo andati a Bologna, gli abbiamo fatto un giretto, ci siamo rilassati per bere e quella è stata veramente una giornata molto bella e sicuramente da ricordare. Febbraio, 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 il 13 febbraio è stato il mio compleanno che ho bastato con una festicciola a casa, con tantissimi dei miei amici, di tanti gruppi diversi, ci siamo riuniti tutti insieme. E' anche venuto Brian a Ferrara a trovarmi per la prima volta, c'è anche il compleanno di mamma l'8 febbraio e poi ho anche avuto la possibilità di fare la presentatrice, sempre insieme a Brian, per due tappe, quella di Piacenza e quella di Grossetto, della Cotre Compilation, insieme a tantissimi altri youtuber e incontrano un sacco di voi. E quello è stato veramente magico e mi sono divertita tantissimo. Marzo è sempre un mese caduro perché inizia la primavera che era la mia stagione preferita in assoluto. C'è stato il compleanno della mia amica Carolina che abbiamo festeggiato tutti insieme, poi ovviamente la festa della donna che è passata la mattinata con alcune delle mie amiche e voi c'è andata a pranzo fuori con mia mamma, quindi ho potuto passare la giornata con una delle mie donne preferite in assoluto. Nio papà mi ha anche regalato una mimosa, sono andata con Alice al concerto di J-Ax e Pedez, abbiamo cantato, ballato e è stato veramente veramente divertente. Poi il 12 marzo c'è il compleanno di mio papà e in marzo ho passato un sacco di momenti bellissimi con Brian perché lui è venuto spesso a trovarmi a Ferrara, quindi gli ho durato per la città e poi sono andata anch'io trovando. E abbiamo passato una giornata insieme alle terme, ho mangiato tanto, proprio una serata passata in un locale che si chiama Crazy Driver, che in realtà è tipo un fast food. Ho fatto un anno di 50, quella è stata divertissima perché ci siamo vestiti anche noi a termini di 50. Aprile, sempre primavera, sempre bellissimo, è ad aprile che mi sono fatta il mio secondo tatuaggio, poi sono andata vedere una partita di basket con mio papà, che è una delle nostre tradizioni. Ho passato molti bellissimi momenti anche con Brian, sia per rara che nella sua zona, molto appunto immersi nella natura, siamo andati in montagna, siamo stati al parco, quindi è una stagione che ci siamo veramente goduti tantissimo. E infine sono stata a Barcellona con Luca Bretta per registrare il secondo video musicale di Basti Tu, quello è stato bellissimo, tre giorni molto molto intensi di lavoro. Ho avuto anche la possibilità di vedere Barcellona, anche se troppo poco, però è stato meraviglioso. Ai primi di maggio sono andata a Torino con i miei genitori e Brian ed è stato bellissimo, abbiamo aggirato tanto, è stato veramente il meglio dei due mondi perché ho potuto passare tempo con la mia famiglia e con Brian. Vivere un sacco di avventure insieme e viaggiare, anche se appunto è solo a Torino, che non è chissà dove, è una delle mie cose preferite in assoluto. Ci sono stata una serata un po' pazza con le mie migliori amiche, abbiamo fatto una specie di pigiama party un sabato sera, appunto ho passato in casa, ma è stato veramente uno dei più belli in assoluto. Sono andata con Brian nel concerto dei dei giornalisti qui a Milano, sono stata al ballo di fin anno ed ho organizzato dalla mia scuola, che ho vissuto come un vero mio prom, perché ho avuto tutti i vestiti mi eleganti, sentirmi un po' principessa per un giorno. E Brian mi ha fatto una sorpresa bellissima perché mi ha regalato un corsaggio, che sono quei fiori tipici nella tradizione di prom statunitensi. È stata una sorpresa bellissima e inaspettata e io ero felice, come più o meno mai nella vita, veramente. Quella è una serata che mi ricorderò per sempre. E alla fine del mese sono stata con Rachele e Lucia a Roma per un paio di giorni, perché abbiamo vinto un concorso fatto con la nostra scuola. Siamo arrivati tra i finalisti a livello nazionale, quindi è stato un grande onore, una possibilità per viaggiare e anche per passare del tempo con due delle mie migliori amiche. Giugno è stato un mese importantissimo perché ho finito il liceo ufficialmente, una volta per tutte. Oh mio Dio! È stato un mix di emozioni incredibili perché è stato un sollievo, felicità, stress, perché questo vuol dire che a seguito ci sarebbe stata l'esame di maturità. E anche di commozione e tristezza, realtà ho pianto come una fontana, veramente tante emozioni diverse, ma sicuramente uno dei momenti più importanti nel 2017. Poi c'è stato il ventesimo compleanno di Brian, passato qui a Milano insieme. A giugno ci sono stati anche gli Eye Days, una serie di concerti che si sosseguono per tre giorni. È stato divertentissimo perché sono state con un sacco di altri miei amici youtubers. Abbiamo ballato tantissimo, ascoltato tanta musica, c'erano artisti come Justin Bieber, Linkin Park, i Blink192. Ci siamo divertiti come dei mazzi. Però a parte queste cose, principalmente il mio giugno è stato di studio matto e disperatissimo, appunto per l'esame di maturità. Perché c'erano le tre prove scritte e la prova orale. Tutto giugno l'ho passato a studiare. È stato Brian a Ferrara per un sacco di tempo, per fortuna, a farmi da supporto morale, meno male, perché io ho sclerato veramente come mai nella vita. Tra i momenti con Brian, appunto, c'è da ricordare anche una serata un po' pazza che abbiamo avuto. Andiamo semplicemente corso in giro, ho ballato, è stato divertentissimo e è esattamente il modo che mi si arriva per sentirmi un attimo teenager spensierata. E lasciarmi dietro un po' dello stress per gli esami che mi hanno veramente fatta impazzire. E a luglio, finalmente, questo cavolo di esame è finito. Mi sono ufficialmente diplomata. Veramente uno dei momenti più importanti e significativi. Ho pianto primo, ho pianto dopo. Mille emozioni. Ho tasseggiato il 4 luglio con Alice, come facciamo ogni anno, così, perché è una tradizione nostra ormai. E quest'anno ha partecipato anche Brian e ci siamo divertite un sacco. E infine, ultimo momento importante di luglio, è che io e Brian siamo andati a Santorini, come mia vacanza, diciamo, post maturità. Bellissimo, un mare meraviglioso. Io sognavo di andare in Grecia da anni, quindi veramente la vacanza migliore che potessi mai desiderare. Poi abbiamo anche visto un sacco di nostre avventure, perché non siamo andati al mare, abbiamo esplorato. Siamo andati in giro per l'isola con un quad. Veramente una vacanza meravigliosa. Agosto. La cosa più importante è che sono andata in vacanza con i miei genitori. Per 4-5 giorni, mi sembra, a Merano, quindi in montagna. Abbiamo potuto girare un po' insieme, mangiare tanto buon cibo e c'è poco da fare. In vacanza con i miei genitori mi diverto sempre tantissimo. Ogni volta avrei avuto un'esperienza bellissima che non vorrei mai rinunciare. E soprattutto agosto e i mesi subito successivi sono stati importanti, perché ho cominciato il mio trasferimento a Milano. Abbiamo dovuto comprare tutti i mobili, montarli. Insomma, un po' un momento di transizione, ma che serviva decisamente per arrivare alla situazione attuale. È arrivato settembre, in cui le esperienze principali che ho vissuto sono state innanzitutto quella di andare a Genova con Lea per un progetto per Nickelodeon. Abbiamo filmato alcuni video per loro. All'acquario di Genova. Abbiamo anche avuto l'esperienza di dormire lì nell'acquario con i delfini che ci nuotavano sopra la testa. Insomma, è stato qualcosa di meraviglioso, anche se molto staccante. Mi ha fatto provare a lavorare con una vera propria troupe e imparare molte cose nuove. Poi il 7 settembre c'è stato il compleanno di Lucia e il 9 settembre il compleanno di mia cugina Micola, anche lei ha compiuto 18 anni, quindi ora mangerebbe. E poi c'è stata la mia cena di addio, diciamo, con tutto il mio gruppo dei miei migliori amici. Addio si fa per dire. Una cena tutte insieme prima del trasferimento definitivo a Milano. Ottobre è stato il primo mese in cui ho veramente vissuto a Milano. Ho iniziato l'università. Per il momento, per quanto sia stressante, mi sta piacendo molto perché mi piacciono molto le materie che sto studiando. Un altro step, diciamo, un inizio molto importante. Con L'Oreal sono stata a Parigi a vedere una delle loro sfilate per la settimana della moda. È stato bellissimo, in quei giorni sono stata trattata veramente da principessa. Sono venuti nella mia stanza ad hotel, la macchina a truccarmi, prepararmi. Ho veramente apprezzato quell'esperienza fino all'ultimo. Mi saltellavo in giro ed ero felice. Mi sono fatta il mio terzo tatuaggio. Ho potuto per la prima volta assaggiare veramente la vita a Milano. Ho fatto passare un sacco di tempo con le mie inquilinali. È difficile a coabituarsi perché comunque bisogna imparare a gestire una casa e fare tante cose che prima vivendo con i genitori non si facevano. Però ho un'esperienza da che mi sento di aver imparato tantissimo. Un'altra cosa giusto un po' importante, cioè che ho preso la patente finalmente. Dopo aver studiato per la teoria, dopo aver fatto tantissime guide, sia con la scuola in guida che con mio papà, ed essere quasi impazzita, l'ho presa. E adesso posso guidare una soddisfazione immensa. Altro step incredibile raggiunto nel 2017. Novembre sono stata a un concerto di Michele Bravi con tantissimi altri amici youtuber. Siamo stati anche al compleanno di Lea perché quest'anno c'è stato il suo diciottesimo. Abbiamo festeggiato, ballato tutti insieme. E poi la mia migliore amica Alice è venuta a ritrovarmi a passare un weekend a Milano con me. E ci siamo divertite da impazzire, veramente. Ho passato tutto per il weekend a ridere come una pazza, più o meno. E infine dicembre sono tornata a casa. Ed è stato così bello. Ho apprezzato appunto ancora di più il fatto di poter vedere i miei genitori, tutte le mie amiche, il mio gatto. E' il compleanno di Alice. Ne abbiamo festeggiato insieme. Poi mia cagina Nicola è venuta qui a passare un weekend a Milano. E ho potuto portarla a girare per la grande città dove non era mai stata prima. E poi ovviamente Natale. Che io ho sentito il festeggiato già dall'inizio di dicembre perché io amo il Natale. E poi sono tornata ovviamente a Ferrara per una settimana. E come al saluto ho festeggiato sia la vigilia il 24 con la mia parte di famiglia danese. Sia poi il 25 con un mega pranzo con la parte di famiglia invece di mio papà. Ed è sempre bellissimo il Natale, uno di quei momenti in cui mi sento proprio bene. Ed è bello poter passare del tempo appunto con i propri familiari. Sia persone vicine, sia invece magari quei parenti che abitano da altre parti. Quindi non si è andato l'occasione di vedere. Infine Capodanno. Ci ho portati col botto in questo 2018. Sono passato con Brian. Anche perché era il nostro anniversario. Siamo stati tutti in casa insieme a festeggiare. Poi siamo andati fuori a vedere i fuochi di artificio. E poi siamo andati in un locale a ballare fino a notte fonda. Troppo fonda. Infatti è un po' sonnissimo. E' il primo giorno dell'anno. Ho iniziato dormendo fino a mezzogiorno. Però va bene così. Recupereremo svegliandoci presto per il resto dell'anno. E basta. Questi sono i momenti più significativi del mio 2017. Ma ce ne sono stati tantissimi altri. Quelli semplici di vita quotidiana. Che magari non sono più eventi così importanti. Però in realtà secondo me sono proprio quelli i veri momenti di felicità. E semplicemente spero che ce ne siano altri tanti anche nel 2018. Questa è la cosa che spero più di tutte. Poi ovvio che ci sono propositi. Cosa che voglio lavorare. Sicuramente il 2017 è stato bello, emozionante. Anche però stressante e molto pieno. Perché appunto sta patente, maturità, inizio dell'università, trasferimento. Insomma è stato intenso eh. Adesso il mio ricetto forse sarà un po' più tranquillo. E non ho veramente idea di cosa possa portarmi. Però insomma vedremo. Io ho molta fiducia. So che in un modo o nell'altro quest'anno porterà delle vasi bellissime. Sia che siano magari aspettate. Sia che siano delle sorprese. Quindi vedremo di viverlo insieme. Cerchiamo di viverlo al meglio. Con positività, gratitudine. Ricordandoci tutte le cose belle che abbiamo. Spero che abbiate passato un bel 2017. Vi auguro. Meraviglioso 2018. Non dimenticatevi di seguirmi tutti i miei social. E di iscrivervi al mio secondo canale. Se volete restare aggiornati sulle avventure della mia vita quotidiana con i miei vlog. Vi auguro una splendida, magnifica e meravigliosa giornata. E ciao al prossimo video. BAM!